E' sostenuta da due liste civiche che riuniscono l'anima progressista che guarda a sinistra e quella di un centrodestra indipendente. Francesca Dallaglio, 50 anni, si candida a sindaco di Rubano, sostenuta dalle liste fuori dagli schemi e rinnova Rubano. Ho raccolto sia un'istanza di cambiamento ma anche proprio una proposta, siamo riusciti a mettere insieme una proposta che è proprio incentrata sulle persone, sulle loro sensibilità e sul fatto di riuscire a fare sintesi per essere al servizio realmente della collettività senza contentarci delle scelte calate dai cosiddetti blocchi ideologici di centrosinistra e di centrodestra. Dallaglio è uscita dalla maggioranza dallo scorso marzo, dal 2009 per due mandati è stata assessore alla cultura e alle attività economiche, questa volta ha deciso di candidarsi a sindaco con priorità precise. Prioritariamente noi dobbiamo riaprire letteralmente le porte del municipio perché in questi anni a seguito del covid sono stati chiusi ridotti gli orari, sono stati chiusi gli accessi anche telefonici per i cittadini. Secondariamente abbiamo il tram che ormai è una realtà, i lavori stanno partendo e di fatto non si è ancora riusciti a fare tutte quelle attività di studio e di riprogrammazione della viabilità secondaria della disciplina di aria di sosta che sono nostra competenza. Un altro tema molto trasversale è quello della partecipazione della cittadinanza alla vita sociale e civile di questo comune che al momento risulta piuttosto spenta. Questo può favorire tutta una serie di effetti molto positivi, infatti il nostro programma parla di questo tipo di coinvolgimento dei cittadini a 360 gradi.